Comincio ad aver paura che non cambierò mai. Nella vita non si cambia. Ma io vorrei almeno guarire. Nessuno ha mai parlato di guarire. Tutto il più possiamo riflettere sui motivi della sua sofferenza. Tua madre esce con un altro uomo. Più giovane e più atletico di... di tuo paesco o di me. Beh, era ora. Sono qui! Elia! Non mi interessa un fisico scolpito, chiaro? Quello te lo puoi pure scordare. Dove vai? A cena fuori. Ti ho lasciato un po' di polpettone in frigo. Forse sei un po' fuori forma come seduttore. È una lista che si fa guidare dalla personal trainer. Questo mi mancava. La ragazza non ha pace con gli uomini. Se non sono disgraziati o Galeotti non le interessano. Ma è grave? È un tipico tratto masochista. Organizzato tutto, come ti ho detto. Tutti mi considerano una disgraziata. Devi solo avere un po' di fiducia in te stessa. Voglio andarmene da qui. E io come faccio senza di te? Frequenti una donna giovane, bella e dall'aria anche molto sveglia, altro che minorata. Quindi lei non è il nonno? Mi devi dargli... Questa situazione è già abbastanza ridicola. Ha 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 ha! Lascia di andare! Ah ha Di più! os Oh!